Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Navam 230x140. Questi tappeti sono annodati nell'area di Amadan, nella Persia nord-occidentale. Sono tappeti di alta qualità annodati in modo artigiannale utilizzando una lana estremamente lucente. I colori sono normalmente rosso o blu, i disegni contengono inserti di motivi geometrici o derivanti dalla tradizione nomade. Si trovano anche medaglioni. Lavorazione, annodato a mano. Spessore circa. 8 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.